Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Le maschere di ritaglio sono uno strumento molto utile per disegnare in digitale perché ci permettono di risparmiare tempo e di ottenere degli effetti che a mio avviso sono molto carini. In questo video tutorial vi spiegherò come utilizzare le maschere di ritaglio con il programma Procreate, in particolare con le illustrazioni manga, che è ciò di cui mi occupo. Per chi ancora di voi non mi conosce, mi presento al volo. Io mi chiamo Lisa e sono un'illustratrice digitale da ormai più di 15 anni. E fin dai tempi dell'adolescenza ho iniziato a studiare come realizzare i personaggi manga. Sul mio canale quindi tratto temi che riguardano sia tutorial su come disegnare personaggi manga, sia tutorial sul disegno digitale. Se queste tematiche ti interessano mi raccomando iscriviti al canale e ricordati anche di attivare la campanella perché altrimenti non riuscirai a ricevere una notifica quando usciranno i nuovi video. Perché usciranno, il canale comunque è in continuo aggiornamento. Una maschera di ritaglio non è altro che un insieme di livelli ai quali viene applicata appunto una maschera, che è il livello principale. Ok, forse si è capito poco in effetti. Partiamo con la pratica. Partirò innanzitutto mostrandovi un piccolo esempio, giusto per farvi capire innanzitutto come si contraddistinguono le maschere di ritaglio. Su Procreate abbiamo il livello principale, che in questo caso è questo, quindi io l'ho rinominato pelle, e abbiamo praticamente tutta la colorazione del personaggio. In questo caso ho creato un livello unico perché volevo farvi vedere meglio l'effetto della maschera di ritaglio. Sopra questo livello abbiamo appunto due livelli che sono chiamati ombra, con un effetto metodo di fusione moltiplica. Riusciamo a capire che si tratta di una maschera di ritaglio da questo simbolino. Di fianco all'anteprima abbiamo appunto questa freccia che punta verso il basso. Punta verso il basso perché indica che la maschera alla quale viene applicato questo livello si trova appunto sotto. In questo caso è questo livello. Il primo livello che troviamo sotto le maschere di ritaglio attaccato ad esse è il livello maschera. Quindi questo è un gruppo, se per esempio qua sotto avessimo avuto un altro livello, questo livello non ha niente a che vedere con le maschere di ritaglio, quindi perché non è attaccato direttamente a questi. Quindi questo è l'unico livello associato. Se per esempio noi andassimo a disattivare una maschera di ritaglio, ecco che cosa otterremmo. Quindi clicchiamo sull'anteprima, andiamo a deselezionare maschera di ritaglio, le frecce spariranno perché essendo attaccate se noi andiamo a disattivare la prima in basso anche quella sopra viene disattivata. Ed ecco che cosa succede. Quindi come vedete senza la maschera di ritaglio abbiamo praticamente un casino. Non preoccupatevi se non capite bene questa prima parte perché adesso vediamo anche nella praticità come si creano le maschere di ritaglio. Quindi tornando ai nostri livelli per riapplicare la maschera di ritaglio non devo fare altro che selezionare l'anteprima e poi andare a selezionare maschera di ritaglio. E quindi il disegno è tornato alla normalità. Riapplico magari lo sfondo e poi anche gli altri effetti relativi al disegno e quindi poi abbiamo l'effetto finale. La prima cosa che vorrei spiegarvi è come creare e cosa sono appunto nella pratica le maschere di ritaglio. Quindi vediamo un esempio molto semplice. Ho creato quindi un nuovo documento con Procreate e nel livello numero 1 vado a disegnare un cerchio. Successivamente vado a creare un secondo livello sopra il livello 1 che viene rinominato appunto livello 2 e seleziono un altro colore. Perfetto. Su questo livello vado a disegnare una linea. Io però vorrei che questa linea restasse esclusivamente all'interno del cerchio. Ora normalmente se noi non conoscessimo le maschere di ritaglio dovremmo andare a selezionare lo strumento gomma e andare a cancellare tutte quelle aree che stanno al di fuori. Però come potete vedere diventa un pochettino complicato e soprattutto questa cosa richiede veramente troppo tempo. Per ovviare a questo problema e risparmiare tempo esistono le maschere di ritaglio. Quindi nel livello 2 che è appunto il livello della linea io vado ad applicare la maschera di ritaglio quindi clicco sull'anteprima sulla miniatura e seleziono maschera di ritaglio ed ecco cosa succede. Tutto quello che è già disegnato nel livello 1 funge da maschera quindi se io nel livello 2 vado a disegnare non riesco a disegnare nulla che sia al di fuori del mio cerchio. Questo perché ho appunto applicato la maschera di ritaglio e come possiamo vedere io non riesco assolutamente ad andare al di fuori del mio cerchio. Quindi questa è la funzione principale delle maschere di ritaglio che è veramente comodissima. Partiamo ora da una domanda che mi è stata fatta su Instagram ovvero c'è un limite massimo di maschere di ritaglio che si possono realizzare? Creare tante maschere di ritaglio può essere un problema nelle nostre illustrazioni? Per quanto mi riguarda non è assolutamente un problema. L'importante è creare le maschere di ritaglio con criterio. Per esempio all'interno di questo disegno io ho creato il livello degli occhi che è appunto questo. Se lo deselezioniamo vediamo che appunto scompare la colorazione degli occhi e sopra questo livello io ho creato 1, 2, 3 livelli dedicati alle maschere di ritaglio. Ma ci sono alcune situazioni come per esempio i capelli in cui io creo ancora più maschere di ritaglio quindi in questo caso erano 4. A volte capita che ne creo anche 10-11 dipende dalla complessità del disegno. L'importante è che vengano create con criterio e che quindi ogni maschera di ritaglio abbia il suo scopo quindi sono comunque dei livelli ma che vengono applicati esclusivamente ad una cosiddetta maschera. Quindi se per esempio io vado a rimuovere le maschere di ritaglio sul livello dei capelli e le vado a riselezionare una per una vediamo che la prima l'ho utilizzata per creare una leggera sfumatura, la seconda per iniziare a lavorare con le ombre dei capelli, la terza l'ho utilizzata per applicare le luci mentre la quarta l'ho utilizzata diciamo per alcuni effetti finali. Il disegno non è ancora completo però comunque questo era per farvi capire che non importa quanti livelli create, l'importante è che abbiano un criterio. Un'altra domanda che mi è stata fatta su Instagram e che vedo essere molto gettonata è appunto questa. Qual è la differenza fra maschera di ritaglio e blocca alfa? Torniamo all'esempio del nostro cerchio. Apparentemente in realtà non c'è nessuna differenza, cioè quando noi vediamo il disegno finale non c'è nessuna differenza, ma a livello di creazione dell'illustrazione c'è un'enorme differenza. Vediamo un pochino un esempio. Proviamo ora ad applicare a questo cerchio sia la maschera di ritaglio che il blocca alfa, quindi io andrò a duplicare questo cerchio, nascondo il livello 1 e tengo soltanto questo, creo un nuovo livello, applico la maschera di ritaglio come abbiamo visto prima e con il pennello vado a disegnare una linea più o meno così. Adesso una volta che ho applicato questo creo una nuova maschera di ritaglio, seleziono un altro colore e vado a disegnare in questo punto. Qual è il vantaggio delle maschere di ritaglio? Il vantaggio è che non sono distruttive, quindi il mio livello principale del cerchio è rimasto integro, mentre al di sopra io ho posizionato degli altri livelli. Se io volessi per esempio cancellare questa linea perché non mi piace più lo posso fare senza problemi, se la voglio modificare posso farlo senza problemi e anche se voglio cancellarla posso andare a rimuovere appunto la linea senza problemi e come vedete mi rimangono inalterati sia il cerchio che l'altro livello con la linea grigia per esempio. Cosa succede invece se noi andiamo ad applicare esclusivamente il blocco alfa utilizzando sempre la stessa modalità? Vado a nascondere il livello con le maschere di ritaglio e mostriamo soltanto questo, perfetto. Ora mantenendo questo livello io vado a selezionarlo e seleziono blocca alfa. Il blocco alfa che cosa fa? Sostanzialmente ti impedisce di disegnare al di fuori di quello che è già stato disegnato all'interno del livello. Ora apparentemente sembra uguale alle maschere di ritaglio, però vi mostrerò adesso il perché è molto diverso rispetto alle maschere di ritaglio, quindi io il blocco alfa lo uso pochissimo. Ok, allora ho creato il mio primo, fra virgolette, scarabocchio, vado a selezionare adesso l'altro colore e creo la riga. Sostanzialmente sto creando a livello visivo più o meno la stessa cosa che ho creato prima. Però, come vedete, stiamo lavorando su un unico livello. Questo cosa significa? Che innanzitutto se io volessi cancellare solamente la linea azzurra non lo posso fare, perché se lo faccio mi cancella tutto quanto. Se volessi modificarla in un certo senso, sì lo posso fare, ma mi va a modificare tutto il mio livello. Se volessi spostarlo, io non posso spostare solo la riga blu perché è solamente un livello, quindi se vado a spostarla mi va a spostare tutta la mia sfera. E quindi se io volessi ottenere lo stesso livello che ho ottenuto qui diventerebbe molto complicato, perché dovrei ricreare manualmente l'effetto che avevo ottenuto. Quindi dovrei selezionare questo colore, fare una specie di sagoma di questo tipo, poi andare a selezionare il rosa, andare a fare una cosa di questo tipo, però capite bene che stiamo lavorando su un unico livello e anche questo va ad impedire, diciamo, a diminuire la possibilità di creare degli effetti più carini. Quindi sicuramente c'è una netta differenza tra uno e l'altro. Ma quindi, siccome c'è questa grande differenza, perché utilizzare il blocco alfa? Usiamo sempre le maschere di ritaglio. Ecco, anche qui c'è un errore, nel senso che ci sono alcuni ambiti nei quali è consigliabile utilizzare le maschere di ritaglio, mentre in altri ambiti è più consigliabile utilizzare il blocco alfa. Vi mostro un esempio. Torniamo all'illustrazione che vi avevo mostrato prima. Come prima cosa andrò ad applicare una maschera di ritaglio su tutta la mia illustrazione per andare a creare, per esempio, un effetto ombra. Quindi io vado a duplicare tutto il mio livello colore, nascondo quello principale e il secondo lo vado ad appiattire. Perfetto. Creo un nuovo livello, applico la maschera di ritaglio e imposto un metodo di fusione di mia scelta. Vado a selezionare un colore che, secondo me, può essere adatto per l'occasione e, realizzo l'ombra. Naturalmente io adesso sto applicando un effetto molto molto veloce, giusto per farvi vedere la differenza. Comunque, ho creato la mia ombra e questo l'ho fatto con la maschera di ritaglio. Quindi per effetti di questo tipo, o anche per disegnare all'interno di aree già fatte, come per esempio i capelli, gli occhi, come vi ho mostrato prima, consiglio l'utilizzo delle maschere di ritaglio. Il blocco alfa, invece, lo consiglio in altri ambiti. Se ti interessa approfondire la tematica del disegno digitale e vorresti migliorare, ho creato un mini corso gratuito dove, attraverso 5 video, ti aiuterò a conoscere e mettere in pratica fin da subito le strategie migliori per disegnare e colorare in digitale. In più, ci sarà anche un corposissimo webinar dove ti svelerò passo dopo passo il metodo che seguo io per realizzare e colorare i miei personaggi. Trovi il link sotto a questo video. Abbiamo visto quindi come applicare una maschera di ritaglio su tutta la nostra illustrazione, ma se invece volessimo applicare un effetto di questo tipo all'interno del nostro disegno, come facciamo? Un esempio molto lampante lo posso mostrare con il disegno degli occhi. Per il disegno degli occhi ho creato diversi livelli, ma utilizzando queste maschere di ritaglio io ho applicato anche il blocco alfa. Esatto, quindi come sicuramente avrete capito, il suggerimento che vi posso dare e che vi consiglio assolutamente è quello di mischiarli insieme. In questo modo otterrete degli effetti ancora più belli. Quindi di solito io utilizzo prima la maschera di ritaglio e poi in alcuni ambiti vado ad applicare anche il blocco alfa. Vi mostro ora un esempio molto chiaro. Vado a creare un nuovo livello sopra il livello occhi. Come vedete mi ha già applicato la maschera di ritaglio perché sopra c'erano già delle maschere di ritaglio associate a questo livello. In cado contrario se non ci fossero state avrei dovuto inserirla io manualmente. Ora che io ho applicato la mia maschera di ritaglio posso andare per esempio a fare la prima bozza. Quindi io di solito vado a scurire e poi mi creo il primo boccettino degli occhi. Naturalmente io in questo momento sto andando veloce però è giusto per darvi un attimino l'idea di quale può essere l'ambito di utilizzo del blocco alfa. Perfetto. La maschera di ritaglio quindi mi ha impedito di uscire dall'area dei miei occhi. A questo punto io vorrei andare a creare una sfumatura che qua sotto è diciamo rosata mentre sopra diventa più sul nero. Se io non utilizzassi il blocco alfa lavorando su questo livello otterrei un effetto di questo tipo quindi vado ad applicare prima il rosa e poi vado ad applicare il nero nella parte sopra. Questo è l'effetto che ho ottenuto. Se io invece vado ad applicare il blocco alfa quindi seleziono il livello e applico blocco alfa vediamo che cosa succede facendo la stessa operazione. quindi vado ad applicare il rosa nella parte sotto e il nero nella parte più in alto. Come vedete in questo modo ha lavorato esclusivamente sul livello maschera di ritaglio che ho creato e la differenza è notevole. Vi mostro un esempio molto pratico andando a lavorare sulla pelle del personaggio come vedete qui ho applicato diverse maschere di ritaglio in questo caso tre però supponiamo che io voglia andare a rendere un pochino più cupa l'espressione di questo personaggio mettendo una specie di ombreggiatura viola come se stesse guardando qualcosa che proprio non la grada moltissimo quindi andiamo ad alterarlo leggermente. Creiamo un nuovo livello che automaticamente mi è stato impostato con la maschera di ritaglio perché è già circondato da maschere di ritaglio quindi di conseguenza l'ha messa in automatico e andiamo a selezionare un colore che ipoteticamente potrebbe andare bene. Io per esempio vado a selezionare questo ma poi faccio in tempo anche a modificarlo. Seleziono un pennello che potrebbe andare bene e vado a dare appunto le mie pennellate. Come possiamo vedere sto lavorando esclusivamente sul livello della pelle non riesco a toccare il livello dei capelli questo perché stiamo utilizzando la maschera di ritaglio e in questo modo ho già creato uno sguardo un pochino diverso rispetto a prima. Ora volendo io ho spostato la maschera di ritaglio più sopra era qui l'ho spostata qui potrei andare ad applicare per esempio il metodo di fusione in modo da mostrare anche i livelli sottostanti ed ecco l'effetto che ho ottenuto per esempio andando a lavorare non sull'intera immagine ma soltanto sulla maschera della pelle. Il blocco alfa è inoltre utilissimo per andare a modificare per esempio il colore di un determinato livello senza andare ad alterare tutti gli altri però vediamolo nella pratica. Torniamo alla nostra illustrazione come vedete ho riattivato diciamo il livello che avevo fatto prima con l'effetto leggermente tenebroso seleziono il livello corrispondente che è questo e vado ad applicare il blocco alfa così non posso andare a modificare altro in questo livello se non la parte già disegnata. Scelgo di cambiare il colore quindi non voglio più utilizzare un violaceo ma voglio utilizzare un azzurro barra verdino quindi seleziono il colore corrispondente e vado a colorare direttamente sul livello senza preoccuparmi di andare fuori oppure no ed ecco che ho modificato il colore senza andare ad alterare altri elementi. Naturalmente questa operazione può essere fatta tutte le volte che vogliamo ecco che cambio il colore do le pennellate e lui me l'ha cambiato di conseguenza. Ora io torno indietro perché mi piaceva l'effetto violaceo però abbiamo visto un altro metodo con il quale possono essere utilizzate le maschere di ritaglio mischiate al blocco alfa quindi questo era un breve accenno di come vi consiglio di mischiare blocco alfa con la maschera di ritaglio. Ovviamente questo è un mio personale suggerimento io applico questo metodo molto spesso nelle mie illustrazioni e mi permette di aggiungere quegli effettini in più e quegli effetti comunque molto carini da vedere che sarebbe difficile ottenere se non mischiassi questi due elementi. Io spero che questo video tutorial vi sia stato utile ho cercato di non farlo eccessivamente lungo perché sulle maschere di ritaglio ci potrebbero dire veramente tantissime cose ma se avete altre domande potete lasciarmi un commento qui sotto al video e naturalmente se avete anche suggerimenti su nuovi video che vi piacerebbe vedere qui sul canale scrivetemelo sempre qui sotto nei commenti a me fa sempre molto piacere ricevere i vostri feedback e anche sapere insomma se i video vi sono piaciuti. Come sempre lasciatemi un bel like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate anche la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che uscirà un nuovo video. Io spero che questo video vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!